Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere, e tira vento, e poi magari piove. Tony cammina che sembra un uomo, con le sgarbette di gomma dura, sedici anni e il cuore pieno di paura. Ma Tony non aver paura, a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari, che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Buon compleanno principe. Grazie. 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 Grazie.